buonasera ragazzi benvenuti sul canale partenopei siamo noi pronti per una nuova live stasera infoli napoli partita sulla carta non c'è storia anche se tutte le partite vanno giocate io penso che il napoli vinca però che stasera subisca anche il corso ho questa sensazione vediamo 3 a 1 per i dati tu che dici 4 vediamo forza napoli iniziate ragazzi forza napoli no i murti dal soli i murti dal soli i murti dal soli mamma che bella gol! no! è gol! è perché non l'hai giustato? è gol! è gol! è gol! è gol! guarda 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 guarda! ma taglia ragazzo! ah Pietro attaccatevi 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 עםAimG 동안u anii hai gol! meron.. milha! onda, onda onda domala Onda yes! contrazi Glenn vittor lascia era meglio che lo prendevi alle spalle fine primo tempo 2-0 abbiamo dominato lungo e largo ormai come ci ha abituato questa straordinaria squadra ha dominato l'avversario lungo e largo aspettiamo un secondo tempo sempre concentrato perché poi non ci vuole niente per cambiare una partita quindi al secondo tempo iniziata secondo tempo forza Napoli sempre vai che buona vai che buona vai che buona vai che buona Maronna che balla Maronna 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 Parisi nostro compaizano grande Fabiano ti aspettiamo a Napoli devi essere un giocatore di Napoli devi essere un giocatore di Napoli Fabiano ahhh Mario Mario che è combinato Mario grande lobo è un grande lobbo è un grande uote che sopra è un grande che a costruire intercetta e a rupa palle è un mostro è un mostro Backo butแ che uno è una miss data estona spettare un losco musiciしました italia mi sono proprio a Onlinefani Come dipendendo ma tą camp Alison? e abbiamo un rehab di bispo 4000m! Ehi concorrenti, non lo teniamo concorrenti, io faccio un ruolo. A dove stanno questi concorrenti? A 30 puntarelli stanno. Ma sicuro. A dove stanno? A dove stanno? Non mi vedo! Ma è tutt'una, guarda l'alopoteca, va! Un mago! Un lobo il mago! Un lobo il mago! Un lobo il mago! Silenzio assoluto dentro l'aulo! Silenzio ti tompa! Tompale! Lo fa comparire e scomparire, fa loro blu blu! Blu blu! C'è più qua! Non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico in più! Dai fischia, arbitro! Dai! Arbitro fischia! Arbitro fischia! E' l'esima vittoria! Dove stanno? Dove? Dove? Non li vedo più! Dove stanno? Dove stanno? Grande Napoli! Con il pilotto di vittorio contro squadra e sulla carta all'interno interiore a noi le abbiamo vinte tutte! Ora Lazio ed Atalanta vince da sudare, per carità! Ma siamo i più forti! Senza Mario! No! No! No!